La Juventus, la Juve Football Club, sembra essere interessata a Pogba in un poco. Tutto sarebbe pronto, dovrebbero portarlo via al Manchester United a parametro zero come dieci anni fa di tempo. Bisogna andare a finire d'accordo negli ultimi dettagli, ma sembra proprio che la Juve voglia prendersi Pogba e quindi resterebbe in pole per andare proprio con questo club di Alconero per eccellenza, però Brigado c'è anche in corsa per il Paris Saint-Germain, il PSG, e Ebra avrebbe detto, però lo vuole anche il Manchester City, che per l'appunto lo vuole avere con lui, con lei. Diciamo che questa è qua, che vorrei dire il numero, il video da Néa qua, dove la Juve è in pole, in quanto quel pubbato si giura, chi si assente da le fine della Juve o quello.